L'informativa alla Camera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, previsione del prossimo Consiglio europeo, si è naturalmente incentrata soprattutto sul MES e il dibattito che ne è seguito ha monopolizzato di fatto l'attenzione mediatica. In particolare la mia attenzione si è focalizzata su due interventi, quello della parlamentare del PD lì a Quartapelle e quello del deputato leghista Claudio Borghi. Ho deciso quindi di fare due video, questo riguarderà appunto l'intervento della Quartapelle, ma sarà seguito poi, presumo già domani mattina, da un analogo video sull'intervento dell'onorevole Borghi. Nel dibattito parlamentare svoltosi stamani alla Camera dei deputati per il PD, come detto, è intervenuta l'onorevole Lì a Quartapelle Procopio. Non mi aspettavo naturalmente fosse lei chiamata a rappresentare il PD in aula. Ma evidentemente l'onorevole Quartapelle ha voluto accettare la sfida che le ho lanciato dopo che nel mio video pubblicato lo scorso 29 novembre dal titolo Salva stati, distruggi popoli e la casa di Renzi, avevo riportato l'intervento che la deputata del PD aveva fatto lo scorso 19 giugno, quando il suo partito era all'opposizione ed aveva una posizione molto critica nei confronti del MES. Avevo invitato così la Quartapelle a chiarire la sua posizione. Le chiedevo quando dovrà votare in aula sul MES, se voterà a favore, seguendo le indicazioni attuali del suo partito ora che è al governo, oppure se voterà contro, visto che lei ha avanzato delle enormi perplessità e ha appunto manifestate all'interno dell'aula in quella seduta del 19 giugno, quando però era all'opposizione. Ebbene, l'onorevole Quartapelle ha voluto intervenire in aula, ma anziché dare un giudizio sul MES, ha preferito attaccare la Lega ed indirettamente me e tutti coloro che avevano messo in evidenza il suo comportamento, diciamo perlomeno un divago sull'argomento MES. Sono quindi stato indirettamente accusato di essere fra gli ideatori di una non ben definita campagna denigratoria nei suoi confronti. Queste le parole della Quartapelle. Io voglio denunciare tutto questo perché alcune mie parole che sono state pronunciate in quest'aula sono state utilizzate da quella campagna. In quest'aula, il 19 giugno di quest'anno, io chiedevo conto al Presidente del Consiglio della posizione del Governo, della Lega e del Movimento 5 Stelle sul MES. E dicevo, e cito, forse lei non si è accorto che quello che sarà in discussione è l'idea che a maggioranza altri stati europei possano decidere di ristrutturare il debito italiano. Se così fosse, sarebbe un problema. Questo meccanismo potrebbe penalizzare enormemente il nostro Paese. Corretto, ha riportato esattamente le parole pronunciate il 19 giugno, ma d'altronde non è che con tutti i video che ci sono online, in rete, insomma, non avrebbe potuto smentire. Però attenzione, qua arriviamo praticamente subito alla farsa, perché proseguendo ha detto, questa non era la mia opinione sul MES. Ma come? Non era la sua opinione. E di chi era? Lei quindi, onorevole Quartapelle, ha l'abitudine di esprimere così, per caso dei concetti, che poi non corrispondono alle sue opinioni. Ed ecco come la giustifica. Questa non era la mia opinione sul MES, era un modo per far mettere in guardia su un rischio vero che correva il nostro Paese. Un modo per far mettere in guardia su un rischio vero che correva il nostro Paese. Ma che sta dicendo? Beh, d'accordo a rampicarsi sugli specchi, ma a tutti, a tutto c'è un limite, insomma. Tuttavia, per far vedere che lei è una donna tutta ad un pezzo, prosegue dicendo, io non ho paura a ripetere quelle parole, non ho paura a ripeterle. Bene, dico io. Se non ha paura a ripeterle, agisca di conseguenza, cioè sia critica nei confronti del MES. Sottolineo nuovamente e ripeto le sue parole nei riguardi del MES. Potrebbe penalizzare enormemente il nostro Paese. Ritengo quindi, onorevole, che lei, come parlamentare italiana, non voglia assolutamente esporre il nostro Paese al rischio di un enorme penalizzazione. Quindi, mi sono stupito quando la sento proseguire ancora in questo modo. Io non ho paura a ripetere quelle parole, non ho paura a ripeterle, nonostante sia stata esposta, come sempre, all'agonia mediatica che la Lega crea online. Qui no. Mi scusi, onorevole, ma... Perché qui, proprio, non riesco a seguirla. Cioè, riportare delle sue dichiarazioni che lei ha proferito in Parlamento, e lei questa cosa qua la chiama agogna mediatica. Beh, non riesco a capire. Ha appena detto che non ha paura di ripeterle, veramente non riesco a capire dove sia questa agogna mediatica. E poi l'arrampicata sugli specchi diventa... Diventa, direi, un'arrampicata sugli specchi con le mani unte d'olio. Ecco. Sentite, infatti, come prosegue la quarta pelle. Io pronunciavo quelle parole a poco più di due settimane dal rischio dell'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia. Quando parlava la Lega, e lo ricorderete tutti, stava facendo un pericoloso braccio di ferro con l'Unione Europea, scommettendo il futuro dei nostri figli. Era assente dai tavoli europei, minacciava politiche economiche che avrebbero portato l'Italia al rischio di default. Beh, proprio è un delirio questo. Qui siamo veramente al ridico. L'onorevole quarta pelle mi ha fatto tornare alla mente il mio carissimo compagno di classe delle scuole medie, perché, diciamo, non era proprio... Beh, non è che studiasse tanto, ecco, soprattutto in italiano. Quando veniva interrogato in italiano, no? La professoressa gli faceva una domanda e lui cominciava un po' così a parlare d'altro, insomma. La professoressa lo lasciava un po' parlare e poi gli diceva, vabbè, ho capito, non hai studiato, torna al posto, insomma. Ecco, me sembra che la quarta pelle... Vabbè, comunque, è chiaro che la quarta pelle ha accusato il colpo, ovviamente, no? Quindi, poverina, cioè, obiettivamente, come poteva immaginarsi che i nemici, oppure se preferisce gli avversari politici che aveva di fronte il 19 giugno scorso, ossia il presidente Conte e il Movimento 5 Stelle, a distanza di pochissimi mesi, insomma, oggi potessero essere uno il premier di un esecutivo da lei sostenuto e l'altro il suo principale alleato di governo, insomma. Ma questo, che era già diventato, insomma, per la quarta pelle, un discorso delirante, e lei non si è fermata lì, purtroppo. Quarta pelle, infatti, è arrivata ad accusare la Lega di utilizzare il MES a scopi elettorali, come se avere, così, una visione estremamente critica su di un trattato fosse qualcosa di antidemocratico, non so come dire. E queste qua sono le sue parole nei confronti della Lega. Ha addirittura chiamato i cittadini e il gazebo. Ha raccolto le firme su un argomento sul quale il vostro segretario non ha idea di che cosa si stia parlando, come ha dimostrato un bravo giornalista di Panpage che ha chiesto a Salvini di cosa si trattasse quando si parlava di Cax e lui non ha saputo rispondere. State usando le persone, la loro fatica, le loro perplessità, semplicemente per spingere un'idea dannosa che è quella dell'uscita dall'euro. Questo comportamento va denunciato, va smascherato, perché fa male prima di tutto all'Italia. Immaginate per un momento se la Lega e il gazebo nel weekend avesse fatto una cosa diversa, avesse detto la propria opinione ma basandosi sui fatti invece di usare un acronimo, avesse spiegato che il MES è un'assicurazione e che certo le assicurazioni hanno un costo. Alla faccia del costo, 125 miliardi! Però poi a questo punto qua veramente bisogna dire no, basta, cioè il discorso, la storia dell'assicurazione veramente non si può più ascoltare. Allora, spieghiamo, spero per l'ultima volta, all'onorevole Quarta Pelle come funzionano le assicurazioni. L'assicurazione si fonda su di un contratto che prevede che se io ho un danno tu mi risarcisci. Ossia, se il MES fosse davvero un'assicurazione, supponiamo un fondo che vada a risarcire i danni in una zona devastata, per esempio da un terremoto, ovviamente dovremmo naturalmente valutare quanto ci costa, ma quale sarebbe insomma quello che viene così chiamato premio assicurativo, ma se lo si trova conveniente, vabbè, si può stipulare questa assicurazione. Ma il MES è tutt'altro che un'assicurazione, non è che ti risarcisce un danno, eh! Oh! Ti prestano dei soldi ed in cambio vogliono delle garanzie che non ti richiedono neanche gli strozzini, altro che assicurazione. Dai! A questo punto proprio il delirio della quarta pelle ovviamente ha scatenato una gazzara in Parlamento. Dai! Dai banchi della Lega, certo, si sono alzate delle grida, sedate subito per la verità dal presidente Fico e la quarta pelle ha concluso il suo intervento con l'ultimo delirio. La Lega prende in giro gli italiani. Ma... ... ...